Ciao a tutti, questa newsletter anticipa di poco un importante evento che si svolgerà a breve, precisamente il 28 febbraio, presso il fenomeno a Fontaneto d'Agonia, provincia di Novare, con i Queen Mania suoneremo, avendo sul palco come ospite, niente con un po' di meno che Katia Ricciarelli. Si può prenotare la poltrona, vi lascio in sulle versioni un link. E diciamo che questa è la prima serata che darà origine al Forever Queen Tour, lo spettacolo che partirà in Germania, avrà come ospite altri due soprano tedeschi e sta avendo un grosso successo, vi metto qui in sovrappressione dei dati. Vorrei ricordare inoltre che come collaboratore di Drum Club, ho scritto anche questo mese un articolo su un batterista che conosco molto bene, il grande Tommy Aldridge, suonato con Zio Aspon, Wise Snake, Gary Moore e molti altri. E ho già in preparazione il nuovo articolo che sarà su per un batterista di Aero Medi in Granimato. Invito quindi assolutamente ad acquistare la rivista, che questo mese è particolarmente interessante, è densa di tanti articoli veramente che possono essere utili per tutti i batteristi. Ricordo inoltre che sono aperte le iscrizioni ai corsi di musica, presso la sede AMM Music Academy di Aero Medi Braulico 1. Io lì tengo i miei corsi di batteria, vi lascio tutti i contatti per prendere visione. Io sono tornato di recente da una clinica che ha avuto discreto successo presso lo studio Over Recording di Cento a Ferrara. Ho un bellissimo ricordo di questo pomeriggio passato insieme ad alcuni miei allievi e anche a tanti altri ragazzi. Quindi vi lascio qualche testimonianza qui sul nostro video. Allora siamo qua all'Over Recording Studio dopo la mia clinica del 21 febbraio, sabato. È stata una bella giornata, io ringrazio voi tutti ragazzi, grazie mille. Speriamo di stare in contatto ancora. Grazie. Ciao ciao. E inoltre vi invito anche a vedere la mia pagina YouTube. Ho caricato anche un nuovo videoclip di un solo di batteria che ho fatto in Germania. Per farvi vedere anche un po' come è lo spettacolo, quasi pirotecnico. E vi invito quindi anche a vedere altre video che vi riguardano. Su questa stessa pagina c'è anche la mia storia e una serie di video didattici, sempre di batteria ovviamente. Inoltre vi invito anche a vedere la mia pagina. Potete visitarmi sulla mia pagina Facebook dove rispondo personalmente e io sono presente anche su Wikipedia. Lascio un grosso saluto a tutti. Ci vediamo, spero numerosi, alla serata del 28 febbraio con la Katia Ricciarelli. Ciao a tutti. Ciao a tutti.